Ciao a tutti ragazzi, io sono Megadome 911 e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi volevo parlare di un particolare tipo di artificiale, sempre in vista di quella che è la stagione dello spinning invernale, soprattutto in shore alla ricerca della spigola, vi volevo parlare di un altro artificiale che secondo me è particolarmente valido, che cercavo da un po' di tempo e che ho trovato particolarmente interessante e mi sono imbattuto in questo artificiale così passeggiando alla Decathlon, ho notato che questo era un artificiale che cercavo da un po' di tempo ma che ahimè in tutti quanti i negozi di pesca a me vicini e che praticamente era pressoché inesistente, nessuno lo portava, nessuno l'aveva ritirato. Bene, in realtà si tratta di un artificiale che magari può anche non essere troppo conosciuto, vuoi per il fatto che è un artificiale che si usa anche nel freshwater, vuoi per il fatto che non è stato magari granché pubblicizzato e non è di recente uscita. Tuttavia è un artificiale del quale ho sempre sentito molto parlare e si tratta appunto dello Daiva Spintail Shad. In questo caso abbiamo la versione lunga poco più di 9 cm e del peso di circa 24 grammi. Che dire ragazzi, si tratta di un artificiale particolarmente interessante, un artificiale che è capace davvero di cambiare le sorti della pescata e di invogliare qualche predatore smaliziato finalmente ad attaccare. Spesso quando pratichiamo lo spinning shore, teniamoci per il momento in quello che è lo spinning shore in mare, che è la pesca che principalmente pratico e che andrò a praticare utilizzando questo artificiale, attenendoci a quello schema, diciamo a quella situazione, possiamo ipotizzare quindi tutti quanti gli spot dove possiamo utilizzarlo, e quindi le scogliere, le foci, i contesti portuali, oppure semplicemente le spiagge a fondale sabbioso, roccioso o misto che sia. Questo è un artificiale diciamo estremamente polivalente, dalle capacità attrattive veramente notevoli, nonché caratterizzato da una grande grande semplicità in termini di recupero, e più tardi vi spiegherò come recuperarlo. Si tratta di un recupero molto molto semplice, ma che risulta essere diciamo parecchio adescante. Bene, vi dicevo, questo è un artificiale lungo circa 9 cm, del peso di circa 24 grammi, e che dire, non ne ho presi un paio, avevo anche intenzione di prenderle un altro a colori acidi, però purtroppo questo era l'ultimo rimasto e quindi non ho avuto diciamo l'opportunità di poterne prendere anche una variante identica per dimensioni e peso, ma differente per colorazioni, in quanto una colorazione acida può sempre fare comodo. Quindi si tratta di uno spintail shad, quindi un artificiale pressoché siliconico, che all'interno ha un'armatura in cavetto d'acciaio passante, alla quale poi alla fine, nell'estremità di coda, è fissata questa piccola paletta leggermente concava, che prende il nome di blade. Non è la prima volta che ne parlo. La blade si muoverà a frequenza molto molto veloce in acqua, e simulerà come se fosse diciamo una, come fosse il movimento di coda, simulerà quello che sarà il movimento di coda dell'artificiale. L'artificiale all'interno possiede anche dei pesetti, è glitterato in pancia come colorazione, ha delle pinne o branchie gialle, delle piccole pinne in silicone anche nella parte del ventre dell'artificiale che non sono poste soltanto per estetica, ma hanno la funzione di dare all'artificiale una grande idrodinamicità e una grande stabilizzazione del nuoto in acqua. Quindi non vedrete mai l'artificiale porsi su un fianco o sull'altro, l'artificiale si muoverà sempre in maniera perfettamente idrodinamica e naturale. Questo anche grazie a queste pinne in silicone che hanno proprio il compito di stabilizzare il nuoto rendendolo il più naturale possibile. Gli occhi sono 3D, qui c'è questo piccolo gancetto che è collegato e che sporge dall'artificiale e sulla parte di testa, proprio sopra gli occhi, e che proviene dalla armatura interna dell'artificiale. Quello che salta immediatamente all'occhio è che si tratta di uno shad piuttosto particolare in quanto abbiamo due possibilità di ferrata, come vedete. Abbiamo un amo che non è un amo offset perché, come vedete, fuoriesce di parecchio o comunque per quasi tutta la sua curvatura dalla schiena dell'artificiale e di sotto abbiamo anche un'ancoretta di dimensioni non troppo grandi che comunque non andrà ad influire negativamente sul nuoto ma che anzi ci permetterà una doppia possibilità di ferrata. Chiaramente la disposizione di amo e di ancoretta sono tutti quanti fattori voluti voluti proprio dal fatto che in caso di attacco del predatore ci sia una doppia possibilità di portare a termine la cattura o comunque una doppia possibilità in generale di eseguire una corretta ferrata del pesce nel momento in cui attacca l'artificiale. Quindi si tratta chiaramente di ami e ancorette di grande qualità nonché anche la blade io ho avuto modo di utilizzarlo già un paio di volte e vi posso assicurare che il movimento in acqua è estremamente realistico degno di un vero e proprio spin tail shad e artificiali come questi generalmente vengono prodotti anche non per forza devono essere in silicone possono essere prodotti anche in plastica in legno, in balsa e così via ma in questo caso il fatto che l'artificiale sia siliconico contribuisce ancora di più ad avere una maggiore movibilità quindi una maggiore mobilità e idrodinamicità nel nuoto in acqua coadiuvando anche il movimento repentino e a frequenza molto alta della blade posta in coda. Questo è un artificiale che può essere indirizzato a tutte quante le specie di predatori quindi da barracuda, serra, ricciole in questo periodo in particolare essendo che ci troviamo proprio all'inizio del mese di ottobre questo è il periodo in cui le lampughe soprattutto quelle più grandi perché a settembre ancora qui da noi entrano quelle diciamo leggermente più piccole in questo periodo le lampughe soprattutto quelle di grossa taglia sono soli di avvicinarsi alle coste per cibarsi delle aguglie o di tutti quanti i pesci di cui si nutrono quindi soprattutto da scogliera e soprattutto in zone in cui vi è scogliera è un fondale abbastanza importante quindi un fondale abbastanza profondo sarà veramente opportuno utilizzare un artificiale come questo proprio per intercettare quelli che sono tutti quanti i predatori che in questo periodo come le lampughe le palamite o gli sgombri i tonnetti alletterati e così via si avvicinano alle coste proprio per cibarsi di sardine, pesci di foraggio o comunque quello che gli capita a tiro sostanzialmente dai colori che vediamo da questo artificiale si tratta di una tipica imitazione di una piccola sardina quindi direi preda per antonomasia di tutti quanti i predatori pelagici e non solo ma attenzione il fatto che sia particolarmente efficace nei confronti dei predatori di galla o comunque dei predatori pelagici e non solo non significa che non sia efficace anche nei confronti della spicola anzi la spicola spesso predilige una presentazione molto simile o comunque corrispondente a quella che questo artificiale mette in atto quindi lo possiamo utilizzare anche in bassissimo fondale in condizioni di scaduta per esempio in foce alla ricerca di un predatore che come sappiamo è fra i più diffidenti in natura e cioè proprio si parla della spigola quindi un artificiale piuttosto polivalente in termini di possibili pesci che potenzialmente può catturare e che può riservare diciamo belle sorprese sia nello spinning in shore ma perché no anche nello spinning offshore qualora per esempio noi ci troviamo di fronte ad una mangianza di tolletti alletterati palamite, lampuche, quel che sia e vediamo che con un classico jig piccolo, grande che sia o di qualsiasi colore non riusciamo ad avere l'attacco spesso è buona norma cambiare, sostituire il jig quindi ruotare le esche, variare la presentazione e utilizzare un'esca come questa questa è un'esca talmente polivalente appunto da poter essere utilizzata anche nello spinning offshore offshore per chi non lo sapesse intendo lo spinning dalla barca indirizzato alle mangianze quindi ai predatori a tutte quelle situazioni in cui a galla si vede proprio una forte attività da parte di determinate categorie o specie di pesci quindi questo sicuramente può essere un ottimo esperiente detto questo volevo parlare di come recuperarlo il recupero di questo artificiale è molto semplice pur essendo un artificiale shad come vi ho detto ha all'interno posizionata un'armatura con filo metallico e dei pesetti in piombo che lo rendono particolarmente stabile in acqua e lineare nel nuoto bene, proprio a partire da questa linearità che ha nel suo nuoto, nel suo movimento dobbiamo sfruttare questa sua linea questa sua linea di recupero lineare per garantire al meglio o per presentare, per meglio dire, al meglio questo artificiale agli occhi di un qualsiasi tipo di predatore quindi in questo caso a differenza di un long jerk a differenza di un jig, di un popper, di un VTD o di tante altre hard baits o a differenza anche di altre esche siliconiche come il persuader quindi il sistema del pendolino rig oppure le classiche testine piombate shad con questo artificiale, credetemi è sufficiente lanciare e recuperare soltanto quindi semplicemente un recupero lineare a velocità medio-bassa in modo da dare il tempo al pesce di passare attraverso quella che potrebbe essere la strike zone o comunque lo spot che più ci interessa sondare e state tranquilli che anche con un recupero medio-lento la frequenza di movimento della blade coadiuvata da questa grande mobilità dell'artificiale in silicone sarà veramente molto alta ed adescante quindi la differenza con altri tipi di artificiali sia soft che hard baits è che con questo artificiale non avete alcun bisogno di gercare è sufficiente lanciare e recuperare a velocità, ripeto, medio-bassa magari con canna laterale o magari anche con canna bassa a secondo del punto in cui vi trovate se vi trovate per esempio sulla banchina di un porto alta circa un metro e mezzo dal livello del mare e allora sarà opportuno tenere la canna bassa e cercare di mantenere l'artificiale lineare e attrattivo nel nuoto sino agli ultimi metri di recupero se invece vi trovate sulla spiaggia per evitare magari che l'artificiale vada a toccare il fondale e quindi a snaturalizzare un po' quello che è il suo movimento lungo l'asse orizzontale il suo scotin solare lungo l'asse orizzontale è parallelo al fondale e in quel caso se pescate da spiaggia o da scogliera bassa vi consiglio un recupero laterale quindi andremo a porre la canna lateralmente in base a dove si trova l'artificiale e poi non resta altro che recuperare vi assicuro che nel caso in cui altri artificiali di dimensioni, colore e peso o caratteristiche diverse qualora quegli artificiali non abbiano reso o comunque qualora vengano inseguiti senza risultato una buona norma è quella di variare in generale la presentazione ma si può anche mettere un artificiale come questo e stuzzicare il predatore in maniera diversa sia a livello di recupero sia a livello proprio di presentazione e prerogative dell'artificiale in quanto questo risulta essere una delle migliori combinazioni tra hard e soft bait parliamo del costo di questo artificiale il costo non è per niente elevato anzi per la qualità che l'artificiale ha devo dire che il costo è parecchio interessante si trova intorno alle 7 euro poi ripeto sempre euro più euro meno i prezzi che vedo io sono i prezzi che vedo nei negozi dove mi rifornisco dove generalmente trovo artificiali essendo che l'ho comprato da Decathlon sicuramente avrà gli stessi prezzi in tutta Italia e quindi siamo intorno ecco alle 7 euro euro più euro meno vi volevo anche informare che è presente una diversa versione di questo artificiale che non differisce soltanto per colore ma differisce proprio come dimensioni e passa da circa 9 centimetri a un 12-13 centimetri dal peso di circa 40 grammi quindi un artificiale di peso molto molto superiore che viene utilizzato perché no anche nello spinning in shore ma nella sua diciamo mole più grande io lo consiglio soprattutto per quanto riguarda lo shore jigging spesso capita che le palamide non siano interessate al jig ad esempio e in fondali molto profondi anche questo artificiale piano ma affonda quindi pur affondando lentamente e poi recuperato lungo una linea orizzontale magari a metà fra la colonna d'acqua poi saremo noi a stabilire il punto in cui vogliamo farlo entrare in azione spesso le palamide con artificiali anche di queste dimensioni ma soprattutto con quello di 40 grammi che ci permette di raggiungere chiaramente distanze più elevate mostrano interesse le palamide e anche altri pelagici nei confronti di questo artificiale anche nell'approccio dello shore jigging come alternativa ad un comunissimo jig bene detto questo non mi resta che parlarvi delle attrezzature che necessitiamo che dobbiamo utilizzare per sfruttare al meglio le potenzialità di questo artificiale io lo utilizzo sia con la canna da spicola quindi la mia classica baspara da mezza oncia sia con la canna da spinning in shore classico quindi la mia falcon che è una 3 quarti per 5 ottavi di oncia chiaramente sono canne leggermente sottostimate ripeto quindi quella da spicola lancia circa 22 grammi quella da spinning classico ne lancia abbondantemente 45 quindi pensate un po' lo uso diciamo in entrambi i casi in entrambe le canne l'unica cosa che cambia sono i fili se lo uso nello spinning in shore alla spicola vi utilizzo diciamo vi faccio pensare di nuovo ai classici fili che utilizzo per lo spinning in shore alla spicola quindi un trecciato 0.14 un fluorocarbon puro 0.27 o 0.35 massimo nello spinning in shore classico invece utilizzo il classico trecciato 0.17 dello spider wire abbinato ad un fluorocarbon dello 0.40 0.45 diciamo quelli sono i diametri che utilizzo di più quindi come canne ci siamo come mulinelli nella canna per lo spinning alla spicola che è leggermente più leggera come tecnica diciamo così a livello di attrezzatore utilizzo un 2.000 come mulinello mentre quella dello spinning in shore classico utilizzo un 4.000 quindi in entrambi i casi potete utilizzare questo artificiale qualora decideste di acquistare la versione più grande da 40 grammi potete sempre utilizzare la canna da spinning in shore classico oppure come vi dicevo poco fa utilizzarlo al posto di un jig e quindi utilizzarlo con attrezzature da shore jig che variano sia come lunghezza che come peso che come portata in grammi e anche come a livello di mulinelli e diametro dei fili bene ragazzi io credo di avervi detto tutto che dire questo è un artificiale molto 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 particolare che può riservare veramente veramente belle sorprese e ho avuto occasione di testarlo purtroppo non ancora con un bel pesce altrimenti vi avrei fatto il video e ve l'avrei fatto vedere ma spero che in futuro ci sarà l'occasione per poterlo testare a dovere sono molto soddisfatto ripeto del suo nuoto che risulta essere estremamente catturante e estremamente adescante perché si muove veramente come fosse un pesce vivo e la blade muovendosi ad alta frequenza emette dei brevissimi ma molto intensi flash laterali che rendono l'esca ancora più vistosa e ripeto adescante purtroppo era l'ultimo rimasto quindi non ho potuto comprare neanche una variante a colorazioni acide ma avrebbe fatto piacere ma chissà magari in futuro riesco a trovarlo e lo prendo anche sicuramente bene ragazzi io spero che questo video vi sia risultato utile e vi sia piaciuto se così è vi invito a mettere un bel like condividete il video fatelo vedere a tutti i vostri amici appassionati di pesca e noi ci rivediamo in un prossimo video ciao ciao